La California per Ferrari è stata il modello di maggiore successo. L'abbiamo presentata nel 2008 perché avevamo l'idea di recuperare dei clienti nuovi, essenzialmente non i clienti tipici di Ferrari, quelli che sono appassionati delle massime prestazioni estreme e allora abbiamo pensato a questo concept di vettura. L'evoluzione che noi abbiamo fatto con la tecnologia del turbo è di usare una tecnologia che consente di fare consumi più bassi ma rimanendo nel filone di quello che noi chiamiamo il DNA delle caratteristiche dei motori Ferrari.